C'erano ancora i serpenti? Una delle prime cose che ho saputo di te, che si raccontavano sul tuo conto Gekra Furia, quello con i serpenti, quello con i serpenti Perché tu avevi in casa un serpente, due serpenti? No, io avevo sei serpenti Sei serpenti dentro casa? Che adesso sono stati ridistribuiti A chi? Incomodato d'uso Ma è legale? Sì, beh Cioè, no, non lo so, è una domanda Cosa, avere i serpenti e darmi incomodato d'uso? No, avere i serpenti Sì, sì, è legale avere i serpenti, non velenosi e... E quelli non lo erano? No, no Quindi non erano pericolosi? Che serpenti erano? No, erano dei pitoni molurus che erano lunghi, 5 metri, pesavano 90 chili Quindi insomma, pericolosi erano pericolosi, però erano dei tatoni Dai Lo so, lo so, mi prendono tutti per matto Pitonus, monoculusus, vieni, vieni Mi prendono tutti come se fossi esaurito Gli avevi dato dei nomi? Certo Come si chiamavano? Uno si chiama, non so se fa bello, però si chiama Bin Laden